Sono Ennio Gemmo, sono l'attuale presidente di LibreItalia. LibreItalia è un'associazione che si occupa principalmente della diffusione del software LibreOffice, ma non solo, anche di tutto quello che riguarda l'open source e del mondo open. Cercherò di annoiarvi il meno possibile perché l'argomento è molto noioso, perché me lo sono studiato un po'. Non è il mio campo, ve lo premetto, me lo sono studiato perché io sono un appassionato oltre che di informatica, lavoro nell'informatica, ma mi piace anche andare a scrutare queste sono le norme di legge che possono di solito, che di solito non sono norme che agevolano, ma sono norme che discriminano o tentano di chiudere quella che è la libertà personale. Prendo in mano il potere, che dovrebbe essere questo, lo scettro, sì. La nuova direttiva del copyright. Allora, intanto ho una piccola premessa, cioè attualmente come funziona? Perché se non abbiamo chiaro in testa come funziona attualmente il copyright, magari non riusciamo a capire il discorso che andrò a fare poi, quindi quello che cambierà. Il copyright attualmente funziona in modo analogico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il copyright come è strutturato legalmente nel mondo attuale è stato pensato per oggetti analogici. Quindi libri, musica, dischi, diciamo così, perché adesso la musica non è più concepita come un disco. Libri, opere, opere d'ingegno, opere scientifiche, eccetera. Tutte fino a tempo fa analogiche. Il diritto di autore, cioè il copyright in italiano è semplicemente il diritto di autore, prevede che chi ha fatto un'opera di ingegno unica possa chiedere un marchio del copyright e quest'opera, dei tipi che vi ho elencato prima, di quest'opera l'autore può chiedere soldi, i diritti semplicemente il riconoscimento sono stato io, eccetera, a seconda del tipo di licenza di copyright. Poi magari io vorrei lasciare un piccolo spazio, perché poi c'è la pausa pranzo, ma anche magari c'è le domande sulle affermazioni che ho fatto adesso. Cioè il legame per esempio fra licenze e copyright, che sono due cose completamente diverse, che però sono legate. Come diceva il professor Gallo, anche il blockchain e il GDPR sono indirettamente colpiti al copyright per le parti che competono. Il blockchain è una catena, come ci ha mostrato prima, dove dentro c'è il GDPR, in alcuni casi, e anche il copyright. Quindi, fino ad oggi, si è pensato al copyright come una tutela dei diritti d'autore nel mondo analogico. Ecco qua, il time of copyright viene usato genericamente per riferirsi a un prodotto sulla legge del diritto d'autore. Avrete visto ovunque questo marchio applicato, magari su riviste, libri, dischi, musica, eccetera. Allora, perché nasce l'esigenza legittima di cambiare la legge sul copyright? Proprio perché, come vi ho anticipato prima, non siamo più di fronte a prodotti squisitamente analogici, ma siamo di fronte ormai al mondo digitale. Quindi di analogico rimane molto poco. Libri, cartacei, dischi, musica, ma il 90% della produzione, diciamo, di arte, eccetera, eccetera, scientifiche, musicali, film, eccetera, eccetera, ormai è online. Quindi il riuscire a garantire il copyright, i diritti d'autore legittimi di chi ha fatto un'opera, diventa un problema dal punto di vista legale. Perché? Perché finora è stato garantito tramite un oggetto. Quindi il diritto d'autore viene applicato alla vendita di un oggetto fisico, è molto semplice, il negozio vende, l'autore prende i suoi incassi ed è finita lì. Attualmente è un po' più difficile. Col mondo di internet la cosa diventa molto più complicata. Cosa prevede la riforma? Allora, ci siamo posti intanto dalla parte di chi dice sì, è giusta questa riforma. Ok? Adesso, pian pianino, ci metteremo dalla parte di chi dice state facendo una gran boiata. Uso qualche termine colorito così per attirarvi l'attenzione. Scusatemi. Ok? Quindi andiamo a vedere il lascio alla letteratura in rete che è tantissima. chi vuole approfondire ancora di più su questa cosa. Però io non voglio essere troppo pesante e tecnico. Perché l'ora è tarda, cominciamo a avere fame. quindi ho visto che cominciate ad essere un pochettino provati. Quindi quali sono i punti salienti che andremo ad analizzare in questa breve incursione? Gli articoli sono tanti. Sono una sessantina, mi sembra. Adesso non mi ricordo bene neanche. Però noi andremo ad analizzare nello specifico gli articoli 11 e 13 con qualche piccola divagazione sull'articolo 3. Vi dico questi numeri ma non dovete ricordarli a memoria, assolutamente. Non è un problema. Adesso andremo a vedere i concetti che esprimono questi due articoli che vengono calati sul digitale. Però, 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 andiamo a vedere come. l'articolo 11 dice che praticamente un autore ha diritto di avere degli introiti, dei soldi, anche semplicemente quando ci sono dei link. Non è esattamente dei link ma dei sniped. Cioè, cosa sono gli sniped? Sono delle, non so se avete fatto delle ricerche su internet trovate che c'è un link e sotto c'è una brevissima descrizione di quello che troverete all'interno della pagina internet magari, no? Cioè, c'è il titolo è una brevissima, una brevissima, ecco, quella brevissima descrizione andrebbe coperta da copyright se passa la legge così com'è. Non è ancora, o meglio, è passata il 12 settembre a uno step. il primo step che è quello della Commissione Europea però deve passare altri due step mi sembra il prossimo sarà del Parlamento Europeo e poi credo ci sia un altro step ancora per essere definitivo. Quindi è ancora possibile cambiare alcune cose. qual è il problema qui? Lo andremo a vedere dopo. Questa è una cosa che prevede questa legge. Adesso capite bene che se cercate una notizia in internet e vi viene fuori il trafiletto diventa un marasma, no? Allora qual era il problema fino a ieri? Cioè qual era torno al concetto di copyright oggi, eh? Qual era il concetto di copyright fino ad oggi? Per esempio i giornalisti i giornali, no? I giornali carta ok? Quindi io ti vendo il giornale il copyright è dentro lì finito. Oggi trovo su internet qual è il problema? Pirateria le notizie girano non c'è più bisogno effettivo di acquistare un giornale lasciando stare le fake news e lasciando stare un altro discorso e quindi come faccio io giornalista ad avere i diritti d'autore cioè dei soldi del mio lavoro se non ho più un prodotto cartaceo che mi tutela il copyright quindi il mondo dei giornalisti è uno dei mondi che ha spinto fortemente su questa legge quindi anche il trafiletto io dico tu guardi solo il trafiletto tu guardi la cosa più piccolina io vorrei che questa cosa mi fosse pagata adesso andiamo a vedere chi paga con calma e andiamo a vedere chi è responsabile di questo perché cambia anche il paradigma eccoci qua non c'entra niente l'autovelox ma è solo per farvi capire allora fino ad oggi i grandi provider su internet passivi parliamo di passività cioè io metto un server su internet un blog può essere un blog ok faccio un server metto a disposizione un server su internet un blog io che Libro Italia che metto a disposizione il blog su internet non sono responsabile in nessun modo dei contenuti all'interno del blog basta che lo scrivo sono a posto cioè è l'utente che carica che è responsabile di quello che carica sul blog questa cosa è navigata abbastanza dai siti pirata che si aprono e chiudono perché il sito pirata di per sé dice è stato tizio boh chi è non lo so quindi finora la legge è aggirabile cosa vuole l'articolo 13 vuole che il provider sia responsabile dei contenuti anche se non sono suoi quindi un controllo fatto esattamente più o meno come idealmente con questo sistema qua cioè tu carichi un qualcosa e io devo fare in modo con un sistema automatico ma anche metterli una personcina che mi dice questo non ha il copyright questo ce l'ha questo non ha il copyright questo ha fatto l'eccesso di velocità quest'altro no questo è un sistema automatico la stessa cosa il concetto è quello e fin qui uno potrebbe dire potrebbe anche andar bene ma caliamo tutta questa cosa per esempio nell'open source lo vediamo dopo ci sono le eccezioni eccetera eccetera questo comunque è il concetto il paradigma che viene rovesciato non è più direttamente l'utente attenzione non è più solo direttamente l'utente responsabile ma anche il provider quindi se io metto qualcosa di coperto da copyright in rete che può essere uno spezzone di un film anche ok fino ad oggi per esempio lo spezzone di un film inferiore ai x secondi lo potevo utilizzare adesso diventa un problemino in rete adesso diventa un problemino perché sotto un certo tempo io lo potevo utilizzare come diciamo una promo o fare qualsiasi cosa non era soggetto a copyright anche se era effettivamente tutta l'opera era coperta da copyright quindi fino ad oggi nessun controllo no duty no monitor adesso andiamo verso una censura preventiva ovvero io metto in rete qualcosa che ha dei contenuti coperti da copyright non è completamente coperta da copyright ma ha dei contenuti coperti da copyright e la mia opera viene uccisa subito non tanto perché è coperta completamente da copyright ma solo anche una piccola parte dimmi Marcello bene sì ogni tanto si perdeva un pezzettino di voce probabilmente le batterie sono un po' scariche quindi quando io vado a vedere un'opera fino ad oggi avevo queste possibilità questi escamotage e qui subentrano le lobby le lobby non pensate che una lobby sia negativa le lobby possono essere negative e positive una lobby positiva è quella che stiamo facendo oggi vogliamo tutti l'open source creiamo una lobby siamo sicuri che il nostro ideale è corretto è giusto rispetto rispetto alle persone rispetto ai diritti umani non ha alcun problema legale e creiamo una lobby positiva le lobby negative sono quelle che si creano quando io vado a vedere qualsiasi diritto di qualsiasi persona quella è una lobby negativa è un mio punto di vista ma penso sia abbastanza condivisa quindi è inutile fare della buona birra se poi qualcuno ci mette dentro l'aceto e diventa una birra pessima non c'è niente di peggio di corrompere una cosa buona perché hai un confronto che è terribile o mettere del sale sopra un babà ok David Hume è un filosofo del 1700 scozzese che hai vissuto in Francia quindi non è una cosa recente questa qua è abbastanza vecchia cosa voglio dirvi con questa cosa che la legge l'idea della legge è buona ma se io vado a condirla con elementi che vanno a inquinare una cosa buona di per sé come idea con interessi di lobby che può essere i giornalisti che può essere le case cinematografiche soprattutto io penso le case discografiche di musica che hanno interessi enormi nel copyright quindi se io vado a inquinare una cosa giusta di partenza come idea con con lobby commerciali già lì vado a ledere la libertà di qualcuno è inevitabile per fortuna già la legge prevede delle eccezioni però 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 quindi la legge prevede con degli emendamenti prima non c'erano vi ricordate che wikipedia ha chiuso per un po' i battenti si è auto oscurata per protesta proprio perché l'articolo 13 non permetteva nessuna eccezione quindi wikipedia era destinata alla chiusura wikipedia wikimedia tutto il mondo di wikimedia era destinato alla chiusura figuratevi se non c'erano elementi coperti da copyright cioè i passi stessi della divina commedia adesso dico una cosa vecchissima perché non ha molto senso però voglio dire qualsiasi pubblicazione recente e meno recente ancora coperta da copyright doveva essere eliminata per fortuna ma ma vediamo se è una fortuna questa cosa è stata risolta momentaneamente con un emendamento che dice che tutti i siti di provider open source senza scopo di lucro eccetera eccetera sono esenti dalla legge da questo articolo neospecifico ma github esente altri altri siti esenti quelli che conosciamo chi vive nell'open source sa di cosa sto parlando quindi tutti i siti di blog dove si parla di open source ma anche i repository eccetera sono esenti da questa cosa però qual è il problema che l'emendamento dice anche che laddove c'è parlando di software del copyright non va molto bene la cosa quindi per quanto riguarda l'open source io potrei avere un sito pieno di sorgenti liberi ma se una parte di questi sorgenti è soggetta copyright e l'autore mi chiede le royalty chiamiamole così o la tolgo o pago chi va a discernere dove dov'è il copyright e dove non c'è un meccanismo automatico allora lì sorge il problema che sorge quando io posto qualcosa su youtube per esempio che ha già un meccanismo simile non so se avete mai osservato io posto un film su youtube magari ha un componente una parte di qualcosa anche una foto che secondo youtube è coperta da copyright il mio contenuto viene rimosso magari dopo qualche giorno ma viene rimosso però potrebbe essere che quella foto mi serva in una presentazione che io metto su youtube un filmato derivato da una presentazione su un software open source io oggi sono stato molto attento in questo caso tutte le immagini che avete visto sono in creative commons ok perché perché se voi volete pubblicare questa presentazione su internet tutte queste immagini sono in creative commons proprio dichiarate nessuna è proprietaria non hanno nessun copyright c'è un altro problemino io ho detto prima anche i provider oggi hanno il dovere di controllare se abbiamo dei dati coperti da copyright e noi leggete questa frase molto divertente no? perché è scritta così? perché da oggi da oggi da quando sarà in vigore questa legge non solo noi siamo responsabili come il provider cioè rispondiamo in modo diretto quindi ci viene ancora la guardia di finanza in casa voglio dire non è che non possiamo che possiamo dire ah beh adesso è responsabile il provider chi se ne frega io mi scarico il film o l'MP3 chi se ne frega sono affari suoi no no adesso è peggio quindi chiaro la pirateria va combattuta fine anche perché nel 90% dei casi non serve la pirateria però vi dico non solo è responsabile chi ha fatto chi ha scaricato ma chi è il detentore di quella linea internet cioè il babbo che ha sottoscritto un abbonamento a internet se entra in vigore questa legge e voi scaricate dei contenuti illegali coperti da copyright è responsabile legalmente su questo fatto criminale quindi non sto dicendo poi vi lascio un attimino la discussione non sto dicendo che è giusta sta roba sto solo dicendo come potrebbe essere lo scenario no no poi vi dirò le conclusioni mie quali sono quindi capite bene che in una situazione di questo tipo terroristica a tutti gli effetti chiunque avrà il terrore di mettere qualcosa in rete o di scaricare e venire scoperto beh sempre come quando si fa un eccesso di velocità non è detto che si venga beccati però c'è la possibilità quindi attenzione io mi scarico Peppa Pig non è più colpa solo di mio fratello è colpa di chi è anche diciamo il soggetto titolare di quella connessione internet queste sono le cose divertenti inseriamo un attimino il GDPR perché non è tanto collegato però vi fa capire comunque l'assurdità di quello che vi ho detto finora allora YouTube Facebook Twitter li conoscete quasi tutti insomma non c'è niente di strano conoscete il GDPR su questa cosa beh allora GDPR per chi non lo sa è la nuova legge sulla privacy in vigore da qualche mese con sanzioni se non viene rispettata sull'ordine dei milioni di euro fino a milioni di euro beh chiaramente è proporzionata alla 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 violazione che si fa no? allora vi rigiro di nuovo il paradigma e vi dico io metto dei contenuti miei in rete con del copyright o anche no non importa però fingiamo con del copyright io faccio un'opera musicale che faccio io la metto in rete con un copyright dove con un accordo con una casa discografica metto in rete fra due mesi cambio idea dico no no basta non voglio più cancellatemi tutto perché no 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 non voglio più nulla a che fare toglietemi i miei dati personali in rete tra cui anche questa musica perché comunque all'interno dell'MP3 c'è il mio nome ci sono i miei indirizzi eccetera sapete che l'MP3 ha dei metadatti dove c'è il nome dell'autore e altre cose quindi già un'MP3 stranamente permette la tracciabilità è un dato in internet che permette la tracciabilità di chi l'ha fatto a volte ci sono anche dei codici dati dal software che viene prodotto dall'MP3 quindi se io uso ad ACT piuttosto di altri strumenti per creare un'MP3 ci sono dei codici ben specifici sempre metatag e alcuni compilati automaticamente quindi non devo neanche preoccuparmi e questi codici permettono di risalire a quale software ho utilizzato e magari anche su quale computer ma il più delle volte se è un'MP3 con copyright ha sicuramente i miei dati personali all'interno quindi può far identificare chi ha prodotto una cosa se io voglio la cancellazione totale dalla rete perché la posso pretendere perché quell'MP3 ha dentro i miei dati personali diventa difficile diventa molto difficile direi che diventa impossibile ok quindi l'articolo 13 ma anche l'11 per gli introiti diventa va a cozzare con il GDPR non va a cozzare in maniera violenta ma va a cozzare in alcune cosettine va a cozzare quindi anche lì bisogna stare un attimino attenti premetto che scusatemi vado a specificare che la legge è europea ma ogni stato può porre delle modifiche ma non devono essere modifiche strutturali quindi se l'articolo 13 del copyright dice che non posso caricare non posso scaricare devo pagare può fare delle modifiche ma per esempio può dire che Libra Italia è esclusa dall'articolo 13 non lo sa Bruxelles lo sa Roma magari quindi queste modifiche qua quindi capite bene che la nostra vita virtuale se questo questa legge passa così com'è ripeto non è sbagliata perché va a correggere un una falla che del copyright che va andava a tutelare gli autori sull'analogico ma non li tutela per niente sul digitale ok se passa così com'è diciamo che diventa abbastanza problematica la gestione dei dati in rete cioè pensate ai dati della sanità i nostri dati quando andiamo a farci le analisi del sangue una radiografia eccetera sono dati che non sono all'interno dell'ospedale no no sono in rete ovviamente una rete protetta ma sono in rete le sanità mondiali possono utilizzare i dati in rete a scopo scientifico senza alcuna richiesta questo anche dopo è una delle eccezioni ma chi mi dice che quel dato anche nelle eccezioni non vada a ledere la mia privacy ovvero io ho bisogno di sapere che nelle 300 radiografie fatte al torace 10 le ha fatte Paolo Rossi no ma quel dato c'è ok quindi chi questa cosa oltre a cozzare con il GDPR cozza con tutto il sistema di prima quindi blockchain cioè la catena che va a partire da io metto il dato in rete ma il mio dato è protetto ma posso richiedere la cancellazione totale ma il diritto d'autore viene preservato quindi i soldi giustamente di chi ha creato un'opera intellettuale vengono dati io posso anche mettere tutto in rete in creative commons GPL fine non prendo un soldo mi basta che mi mettano il mio nome quella è la mia paga fine non è obbligatorio avere dei soldi sono sicuro anche dopo che questa cosa venga fatta o è semplicemente l'articolo 13 in particolare uno strumento per dare soldi ai soliti vi faccio delle domande perché dovreste farveli anche voi io sono arrivato alla conclusione che l'articolo 13 così com'è va cancellato è inutile non lo si può applicare perché perché oggettivamente uno strumento automatico simile a quello che esiste già su youtube va a cancellare un sacco di contenuti che invece sono perfettamente illegali un meccanismo umano è impossibile dovrei mettere un milione di persone come minimo ogni giorno a controllare i dati che vengono inseriti in rete un milione due milioni di persone quindi anche quello è impossibile un sistema misto impossibile chi mi dice che l'errore umano non sia lì in atto e mi cancellino un qualcosa che io invece ho per diritto in rete e quindi ricorsi legali perché poi la violazione del copyright non è banale quando io ho scoperto una violazione del copyright parte anche la macchina legale quindi avvocati giudici tribunali cose che si protraggono per mesi magari anche anni se l'interesse è corposo cioè allora a nessun interesse l'MP3 da un euro e cinquanta che scaricate su internet il pezzettino voglio dire interessa solo l'autore al provider ma nessuno vi farà causa per un euro e cinquanta ce li oscurano vi oscurano vi danno una multa quello che è ma quando ci sono interessi milionari come quelli che possono essere della stampa o della SIAE qua si parla di questi non è che si parla di altro di SIAE in Italia la SIAE in generale quando si parla di interessi milionari chi mi dice che tutto quello che fai non lo fai per te e violi la mia libertà personale invece impedendomi la libertà su internet perché per me la libertà è la prima cosa poi il controllo ci sta però prima di tutto devo stare attento io legislatore di creare una legge che non violi la libertà di nessuno altrimenti è una legge che non è democratica e che non è umanamente accettabile io ho concluso se avete qualche domanda se sono in grado di rispondere perché vi ho promesso che non sono un esperto su queste cose me ne sono solo guardate studiate quindi non sono assolutamente un esperto sono più esperto di GDPR perché ho dovuto studiamelo per lavoro ma diciamo che ho visto dei collegamenti abbastanza attinenti vi lascio 5 minuti non so neanche che ora ho fatto siamo perfetti bene così ho recuperato anche il gap di prima vi lascio 5 minuti se avete qualche domanda altrimenti lascio la parola a Marcello o anzi scuse a Gallo sì dicevo grazie non mi è chiaro il meccanismo dell'articolo 11 che credo sia la cosiddetta link tax allora la link tax l'articolo 11 sì allora come è strutturato adesso io metto una mia proprietà intellettuale in rete facciamo finta un mp3 ma può essere qualsiasi altra cosa e semplicemente non è un link e basta è uno snipe cioè deve esserci sotto un pezzettino della mia opera quindi un mp3 che sento i primi 40 secondi facciamo finta ok oppure è un articolo di giornale dove leggo le prime non tanto le prime quattro leghe ma una piccola parte ecco quelli snipe lì io ho il diritto di avere il copyright cioè ho il diritto di avere la mia remunerazione monetica semplicemente su quelle cosettine lì non sull'opera completa questo cambia sull'articolo 11 perché cosa si sono accorti Google per esempio quando io faccio una ricerca su Google vedo quelle diciamo anticipazioni a volte anche sulla musica a volte anche sui filmati vedo un pezzettino di filmato tutti quei pezzettini lì ad oggi non sono coperti da niente da nulla cioè sono lì punto basta io potrei essere un altro giornalista faccio una ricerca su internet prendo le notizie a pezzettini e ne creo un'altra ho messo tanti copyright di altri autori all'interno della mia opera e ho fatto una cosa nuova però non è vietato però io dovrei pagare le royalty a tutti quei pezzettini da dove ho se passa questa legge lì diventa anche il problema di identificare chi giustamente come hai detto te non ho capito bene ma non si capisce bene in realtà cioè sia chiaro cioè in realtà non è chiarissima la cosa come dovrà funzionare è solo detto che deve essere così ma non è specificato come ok perché come tutte le leggi le leggi vengono promulgate ma l'attuazione è un'altra cosa attenzione non confondiamo una legge con l'attuazione della legge allora torno ai limiti di velocità che magari abbiamo più chiaro in testa c'è una legge che dice che nell'autostrada sono i limiti di 130 quando il tempo è bello eccetera eccetera l'attuazione e dice solo così 4 righe insomma poco più fine l'attuazione della legge è un'altra cosa dice se tu superi 130 km all'ora e viene provato da un rilevatore di velocità omologato tutta una serie di 50 pagine sulle tre righe di prima dove viene specificata l'attuazione di quella legge e abbiamo esempi in Italia di leggi che non hanno attuazione sono lì morte che navigano l'articolo 68 dell'agid per esempio è una legge senza attuazione è lì chi è che sa cos'è l'articolo 68 agid voglio vedere le manine alzate tutte nessuno allora c'entra niente l'articolo 68 dell'agid è un articolo che dice semplicemente ve lo riassumo proprio brevissimo che dice che la pubblica amministrazione deve utilizzare del software open source a meno che non sia impossibile e quindi può utilizzare del software proprietario ricordate sì 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 scusa scusa codice amministrazione digitale pubblicato dall'agid diverso giusta correzione allora quella lì è una legge che è stata messa lì per articoli ma non ha attuazione cioè non dice se tu non non rispetti l'articolo 68 verrai messo in galera per dieci anni buttate via le chiavi se poi sei recidivo no non dice niente dice solo così e basta quindi è una legge che non ha nessuna attuazione dal punto di vista non ha nessuna regola di attuazione e quindi è lasciata l'interpretazione di tutti non ha sanzioni non ha interpretazioni quindi viene bellamente ignorata semplice quindi potrebbe essere che fanno l'articolo 13 senza attuazione chi se ne frega lo lasciamo lì morto l'articolo 11 senza attuazione lo lasciamo lì morto e poi tutta questa roba deve essere anche approvata in Italia con le modifiche del caso perché attualmente le leggi sul copyright sono diverse tra nazione e nazione in Europa quindi vanno unificate e poi ci saranno le eccezioni tra una nazione e l'altra e per vicinanza poi ci sarà l'eccezione ulteriore così dicono quindi ecco è una situazione molto complicata attualmente vedremo come va a finire grazie grazie a tutti grazie a tutti